Molte persone avvicinandosi ad un alveare, molte volte hanno paura perché si conosce l'insetto ape come un insetto che punge e ti fa male. No, non è così. Quindi un apiario integrato, loro vedrebbero effettivamente l'arnia di per sé dentro una casetta che l'ape non possono uscire, ma sentirebbero il profumo e innanzitutto vedrebbero le api così laboriose come madre natura le ha fatte, quando lavorano, nel loro pieno del lavoro. Sosteneteci!